Eccoci in questo nuovo video sul canale YouTube. Come hai potuto vedere dalla copertina, il video sarà focalizzato su quello che è il macro argomento, l'email marketing, e nello specifico ti mostrerò quella che è la sopopera sequence, quella che per me è la sequenza di email che mi ha salvato la vita. Ma passiamo subito al contenuto. Quando qualcuno si unisce alla tua lista di contatti per la prima volta, è essenziale costruire con lui rapidamente un legame, una relazione e quindi in questo senso il modo in cui ti presenti può fare nettamente la differenza tra un abbonato e quindi un iscritto alla tua lista email, che apre quindi frequentemente in modo costante le tue email che invii, e un abbonato che invece clicca subito per disiscriversi. Per anni ho provato dozzine di modi per costruire un veloce rapporto, una relazione, nella relazione con le persone, con i miei lettori, o comunque con le persone appunto che si univano alla mia lista. Ma ho sempre lottato finché non ho imparato un concetto chiamato sopopera sequence. Se non hai mai visto una sopopera in tv, considera che ogni episodio lascia delle questioni aperte che intrigano così e incuriosiscono lo spettatore che quindi non vede l'ora di guardare l'episodio successivo. Ogni episodio consiste infatti in una narrazione continua, che volutamente non arriva mai al nocciolo della questione. In questo senso i personaggi si mettono sempre nei guai e dallo stesso tempo riescono sempre ad uscirne. Si innamorano e poi si lasciano, vanno in prigione e poi scappano, muoiono e poi magicamente riappaiono. Queste dinamiche fanno sì che il lettore si appassioni ed entri in relazione con i personaggi, tanto da venire letteralmente risucchiato nel vortice del voler sapere che cosa succede dopo, che cosa succede nell'episodio successivo. Non so in questo senso se hai guardato una delle serie tv diciamo più che ha spopolato nell'ultimo periodo la casa di carta, ma in quella serie puoi assaporare tutte le potenzialità della sua opera sequence. Quello che vedremo qui è come usare la sua opera sequence per creare una sequenza di email che ha la capacità di mantenere l'attenzione e la curiosità dei lettori nel tempo e costruire con loro quindi una relazione. L'obiettivo è appunto quello di creare un legame istantaneo tra la tua persona e la persona che legge l'email. Se la tua prima email è noiosa hai già perso, probabilmente i tuoi lettori non apriranno nemmeno la successiva. Allo stesso tempo se dai loro qualcosa di interessante e li agganci con una storia che non finisce mai non vedranno l'ora di ricevere la tua prossima mail il giorno seguente. Nella sua opera sequence dovrai presentare il tuo personaggio attraente e costruire una storia drammatica e senza fine. Ci sono diversi modi per fare questo. Ad esempio ho visto sequenze di 40 50 mail che cosa che io di fatto non sono mai stato in grado di fare. Per questo ho sviluppato una semplice sequenza di cinque email che appunto sua opera sequence, il concetto di sua opera sequence, che tengono agganciato il lettore che si unisce alla tua lista di contatti per cinque giorni. La chiave per far funzionare questa sequenza di email è che tu riesca ad aprire e chiudere loop che trascinano il tuo lettore da un'email all'altra. Ad esempio nella prima mail potresti dire che hai scoperto il segreto per un argomento specifico, ma invece di svelare al lettore già tutti quelli che sono i dettagli, apri semplicemente una parente, una finestra, un loop che riprenderai nelle mail successive o comunque nelle mail che invierai nei giorni seguenti. Dopodiché nella mail dei giorni dopo a quel punto svelerai il segreto e dallo stesso tempo aprirai un nuovo loop, che trasporterai il lettore nella mail numero tre. Sono sicuro che hai già visto utilizzare questo metodo nelle soap opera in tv o nei reality show ad esempio. Questa tattica ti trascina da un'interruzione pubblicitaria all'altra oppure da un episodio all'altro. Di fatto sono delle dinamiche che vedi accadere tutti i giorni, quotidianamente in tv. Lascia che ti mostri un esempio di soap opera sequence, è semplice e funziona per costruire una relazione tra te e i tuoi lettori. Ipotizziamo che per entrare in questa sequenza di mail, di queste cinque mail, il tuo lettore si sia iscritto compilando un modulo in cui dicevi di svelare in segreto su come diventare un esperto in un determinato argomento. A quel punto parte la prima mail, la mail del giorno 1. È una mail che appunto si chiama prepara il palcoscenico. Perché? Questa è la prima mail, deve essere una nota di ringraziamento prima di tutto che le persone ricevono nel momento in cui si iscrivono alla tua lista. Questa prima mail, di fatto, ti aiuta e ti deve aiutare a preparare la scena del palcoscenico e spiegare al lettore cosa dovrà aspettarsi nei giorni successivi. Indicherai loro che invierai un'email al giorno, fondamentalmente, così li prepari già note. Potresti anche farne due al giorno, oppure una settimana. Allo stesso tempo il mio consiglio è quello di iniziare con un'email al giorno per ottenere i migliori risultati. Dopodiché, in base ai test, valuterai se aumentare la frequenza oppure diminuirla. Questo per quanto riguarda il primo giorno. Il giorno 2 cosa succede? Il giorno 2 è una mail molto importante, devi aprire l'email con un dramma. Ok, se hai fatto un bel lavoro con l'email precedente, aprendo quindi un loop, facendo sì che il lettore fosse curioso, non aspettasse, diciamo, altro che ricevere la tua seconda nuova, mail, il giorno seguente il lettore starà aspettando con ansia l'arrivo di questa mail. Ed è qui che inizia il processo vero e proprio di vendita. Inizia l'email con un dramma. Perché inizia l'email con un dramma? Molte persone commettono l'errore di iniziare a raccontare le storie dall'inizio, ma spesso le storie non diventano interessanti fino a che non si arriva alla metà. Fidati, è meglio iniziare dall'aspetto drammatico e poi fare un passo indietro e raccontare tutti retroscena una volta che hai agganciato il lettore con quello che è appunto il dramma, il punto focale di quello che ti è successo. E retroscena, quindi dovrai andare a raccontare conseguentemente quelli che sono tutti retroscena. Quindi una volta che hai agganciato l'attenzione del lettore con una notizia drammatica, torna indietro e raccontagli tutti quelli che sono retroscena. Racconta lui quali sono stati gli eventi che hanno portato a quel momento drammatico. In genere, il retroscena ti aiutano a catapultarti ad un punto simile al punto in cui potrebbe trovarsi il tuo lettore nella sua vita in questo momento. Se ad esempio stai aiutando attraverso diciamo questa mailing list a perdere peso, con il retroscena lo porti al momento in cui tu eri magari sovrappeso, quindi eri magari potenzialmente nella tua stessa situazione attuale. Se stai insegnando invece lui come gestire le sue finanze potresti riportarlo al tempo in cui tu stesso non avevi ancora avuto successo, non avevi trovato uno schema con il quale poi in questo momento stai gestendo le sue finanze e ti sta dando ottimi risultati. Quindi l'obiettivo è quello di portarlo in un viaggio come vedi personale insieme a te, quindi creare pian piano sempre di più una relazione profonda. In questo senso il retroscena ti porterà ad un punto in cui tu eri rimasto bloccato e hai fondamentalmente raschiato il fondo del barile. Solitamente è qui che il lettore è nella sua vita in quel momento, nel momento in cui legge le tue parole. Quindi fondamentalmente è bloccato ed è per questo che è aperto a quelle che sono le tue risposte, è pronto ad ascoltarti fondamentalmente. E in questo senso conseguentemente tu gli spieghi come sei uscito da quella condizione. Ma anche qui attenzione a non dargli ancora la risposta, basta aprire il loop e promettere di chiudere nell'email successiva, l'email numero 3. Venendo l'email numero 3 è l'email diciamo dell'epifania. Ora il fatto, nell'email numero 3 è il momento di iniziare a parlare dell'illuminazione. Il momento in cui ti rendi conto, ti sei reso conto, hai realizzato qualcosa che non avevi mai realizzato prima. Probabilmente si tratta di qualcosa di molto semplice che magari era proprio di fronte a te per tutto, è stato di fronte a te per tutto il tempo ed è il momento chiave in cui di fatto la tua vita è cambiata. In questo senso, nella mail numero 3, il lettore dovrebbe essere agganciato fondamentalmente. Vuole sapere, o spero comunque acquistare, quella che è la tua soluzione. La maggior parte delle volte, la tua mail di epifania, quindi la mail numero 3, ricondurrà a quella che è la tua offerta principale. Qualunque cosa ti stia vendendo che risolve di fatto il problema per il quale comunque questa persona era entrata nella tua sequenza di mail. Esempi di illuminazione noi epifania, potrebbe essere la mia illuminazione è stata che avevo bisogno di costruire una lista ed è allora che ho imparato a conoscere qualcosa. Ho dovuto sviluppare un sistema di supporto per aiutarmi a superare la mia dipendenza ed è stato allora che ho trovato quella soluzione. Ho dovuto affrontare le radici emotivi dell'eccesso del cibo e a questo punto ho scoperto magari come poter mangiare in modo sano. Quindi l'illuminazione non si lega altro che alla soluzione che di fatto stai vendendo. Se stai vendendo il prodotto di qualcun altro, in questo senso, ti basti dire che la tua illuminazione ti ha portato alla scoperta di quel prodotto che stai promuovendo in qualche modo. Venendo ora all'email numero 4, nelle mail numero 4 andrai ad approfondire quelli che sono i vantaggi nascosti del prodotto e servizio che stai cercando di vendere. In questa mail vuoi sottolineare i vantaggi che il lettore otterrà continuando a seguirti utilizzando quello che è il tuo prodotto o servizio. In questo momento devi concentrarti su quelli che sono i vantaggi che non sono potenzialmente così evidenti. Questo ti dà un altro motivo per inviare un'email ed un'altra possibilità di costruire un legame ancora più forte con il lettore che aumenterà sempre di più quella che è la tua fiducia nei tuoi confronti. Quest'email appunto indicherà i vantaggi nascosti che il lettore potrebbe effettivamente ancora non aver compreso. Ad esempio con il tuo prodotto il lettore potrebbe aver capito che potrebbe guadagnare di più ma magari non sta pensando che grazie a questo potrebbe avere anche più libertà di viaggiare ad esempio. Oppure il lettore potrebbe aver capito che potrebbe perdere peso ma magari non pensa che così facendo potrebbe vivere abbastanza lungo per godersi di più i nipoti ad esempio. Quindi vedi sempre un beneficio, un vantaggio nascosto. Oppure ancora potrebbe avere intuito che sarà in grado di lavorare da casa allo stesso tempo però potrebbe non aver pensato che così facendo potrà fare le ferie quando vorrà magari. Quindi spesso sono proprio i vantaggi nascosti che catturano il lettore e lo muovono ad agire. Quindi in questo senso inventa parabole quindi delle storie che dimostrano quei vantaggi nascosti. Mostra al lettore come questi vantaggi nascosti possono migliorare la sua vita e spiegagli come potrebbe sentirsi poi di conseguenza in una situazione nel momento in cui utilizzerà o avrà utilizzato il tuo prodotto e servizio. E quando grazie a tutto questo il lettore arriva a pensare amico mio lo voglio, hai fatto bingo. Solitamente questo è il momento in cui clicca sul bottone per acquistare quello che è il tuo prodotto. Passiamo a quella che è l'ultima email di questa sequenza. Allo stesso tempo ci tengo a precisare che questo è uno schema che ti voglio consigliare, uno schema che io stesso utilizzo che mi ha portato risultati. Ovvio che puoi come ti dicevo prima ragionare di integrarlo con altre email successive. E la mail numero 5 è un email di urgenza e call to action, quindi invito all'azione molto diretto. Questa di solito è l'ultima email della mia sequenza di SoCopera Sequence. Non è l'ultima email che invio alle persone, ma è solo diciamo la fine di quella che è la mia introduzione fondamentalmente. L'obiettivo con questa email è dare al lettore un'ultima spinta per agire subito. Lo fai in questo senso aggiungendo urgenza nell'equazione, quindi utilizzando un invito all'azione chiara, una call to action chiara, e mentre in questo fino ad ora nelle mail precedenti avevi usato call to action casualmente. Allo stesso tempo, come ti dicevo, in questa mail vuoi accendere un po' di più i riflettori fuoco, quindi quali leve potresti usare per diciamo andare a stimolare quella che è l'urgenza, quindi poi stimolare quella che è la call to action. Potresti dire che il tuo verbo di presentazione del prodotto inizia domani, oppure hai solo 10 post rimasti per il tuo evento, oppure hai ordinato ad esempio magari mille libri e la maggior parte di questi sono già stati acquistati, quindi ne rimangono pochi. Oppure fondamentalmente dopo terminato questo periodo di lancio il tuo video, nel caso tu stessi provando un video, il video andrà offline. Qualunque sia ad ogni modo la ragione dell'urgenza dell'invito alla call to action deve essere reale. L'urgenza falsa si ritorcerà contro di te e perderai quindi di conseguenza ogni credibilità. Pensa solo a un motivo per cui potresti esaurire tutto ciò che stai vendendo. Se è un prodotto evergreen ad esempio, allora crea una vendita speciale che finisce presto. Oppure dai al lettore un coupon che scade tra 24 ore. In questo senso ti consiglio di essere creativo e fondamentalmente c'è sempre un modo per creare una reale urgenza. Siamo arrivati alla fine di questa diciamo di questa video lezione di questo video rispetto all'email marketing, rispetto alla soap opera sequence e in questo senso facciamo un recap. Come funziona la soap opera sequence? Di base è costruita da cinque mail, l'email 1 porta il lettore all'email 2, l'email 2 porta il lettore all'email 3 e così via. Le email dovrebbero, attenzione, essere facili e veloci da leggere. Quindi uso uno o due frasi per riga, come hai visto fatto io magari in questo documentino. Non usare paragrafi lunghi che di fatto rallentano e complicano la lettura e la comprensione. Probabilmente hai già notato un paio di altre cose. Primo usa un sacco di personalità. Vuoi che le persone leghino con te. Non cercare di nascondere chi sei. Anzi le persone apprezzano quando ti esponi, quando ti racconti, quando esponi il fianco fondamentalmente. Metti in mostra quelle che sono state le tue debolezze perché solo in quel modo riescono a immedesimarsi meglio nella tua situazione. Potresti commettere alcuni errori grammaticali nelle mail. Se accadono non dare di matto e non lasciare che la paura di sbagliare ti impedisca di iniziare, di inviare le mail o comunque iniziare questo tipo di invio di shophopper sequence. Se segui lo stile appunto del shophopper sequence sono certo che rimarrai stupito da quelli che sono i risultati. Magari fammelo sapere rispondendo sotto questo video oppure se questo video appunto ti è piaciuto e vuoi altri contenuti di questo tipo, l'invito è quello di iscriverti al canale per vedere altri miei contenuti rispetto a quello che è il mondo del marketing, dell'imprensoria, della finanza, della crescita personale e soprattutto di mettere un like in modo tale da poter far sì che altre persone come te possano vedere questo contenuto e imparare magari un concetto che non conoscevi per riuscire appunto a trovare una soluzione per far leggere ai tuoi lettori, la tua lista di contatti, le mail che invi. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!